Mi trovo in via Cesare Battisti all'altezza di via Cagliari più o meno e i cittadini, soprattutto gli esercenti commerciali, mi hanno segnalato una situazione davvero incredibile. Il fatto appunto che le caditoie che dovrebbero ovviamente raccogliere lo sfogo delle acque sono letteralmente intasate. Vi faccio vedere, ecco qui, quando fu riasfaltata la strada evidentemente si è pensato di non ripulire completamente la caditoia ma si è lasciato all'interno del catrame. Lo vedete, il catrame che c'è, per quel che si può vedere ovviamente, oltre poi a tutto il resto dei rifiuti. Ma la situazione certamente più compromettente è la presenza di questo catrame, lo vedete appunto tra le grate e il grigio scuro e il vecchio asfalto o forse parte del nuovo che non è stato appunto rimosso. E ovviamente ha, come dire, tappato la caditoia al punto tale che quando piove l'intera zona si allaga completamente e addirittura l'acqua va a finire nei negozi, nelle attività commerciali. Non è solo quella caditoia ma facendo pochi metri eccone un'altra e puntualmente i negozi si allagano. Anche qui la stessa malattia, chiamiamola così, perché la ditta evidentemente ha fatto malissimo il lavoro e vedete all'interno ci sono proprio pezzi, strati, molto ma molto consistenti, vedete, di asfalto che praticamente chiudono, riducono la capacità di sfogo, di scolo delle acque e in buona sostanza la caditoia, la superficie sottostante tutta piena o almeno per un buon 50% completamente piena di asfalto. Una situazione assurda, questo ci fa capire anche come i lavori vengono fatti malissimo, i lavori vengono fatti con i piedi, dobbiamo dirlo senza se e senza ma, ma la cosa ancora più grave è che i controlli da parte degli uffici tecnici non avvengono, perché l'ufficio tecnico una volta fatto il lavoro dovrebbe verificare la bontà stessa del lavoro, se è stato realizzato ad opera d'arte, secondo le regole tecniche. Nonostante le ripetute sollecitazioni, lagnanze, giustamente dei commercianti, nulla, questa gente si trova praticamente invasa dalle acque. Sembra di stare a Venezia, sapete, Venezia acqua alta e questo non per un fatto non risolvibile, ma per una questione risolvibilissima, rispetto alla quale però, come dire, chi ha realizzato il manto stradale ha dimostrato tutta la sua incompetenza, incapacità, superficialità. Guardate come, lo ripeto, la caditoia è piena, 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 è ostruita dal catrame esistente all'interno. Questa è l'amministrazione Melucci, un'amministrazione in cui le ditte, scusatemi l'espressione, fanno i cazzi loro. Capito Melucci? Le ditte con la tua amministrazione fanno i cazzi propri perché nessuno le controlla.